Allora, allora, con calma, eh, ragioniamo. Chi è interessante da guardare adesso, direi Pulsar, va a buttarli giù tutti, no? Dove si è... Pazzo direi. Con quel saluto HP, Simon è? Un HP è bastardo. Abbiamo la new entry Jack che se la sta prendendo alla grande con ormai morto Ivan e... No, 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 e dai, dai, io non ho capito, basti sfruttarmi a muore. Cosa vuol dire cosa che vuol dire? Affitto, affitto, ce l'hai lì davanti, a sinistra, a sinistra, e lì per gli alberi. Eccola. No, stavo arrivando all'interno. Ma cazzo. Io non ce l'avevo con il spasivo Vox, io ce l'ho con... Porca no! No! Sparagli però mentre scappi, sparagli. Spari, spari. Non ce l'ho dietro. No! No! Insultalo! No! Ma no! Che caffaculo! Corri! 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 Non fermarti! Aiuto! Ma andate nell'asciutto! Che cazzo! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! È il festival di ritardo! Cazzo! Oddio! Ma ma quanto sono forte! Non paghiamo l'affitto! E invece lo spagherete! Ma dove sei? Dove siete? Dove siete tutti? Dove siete? Veramente? Cioè sono... Sono in centro? No! Cazzo! Fanto davanti! Sempre avanti! Ma dove? Sempre avanti! Ma cazzo è sto fissile! Dietro! Ma buono! Sì, avanti dietro! Avanti! Adesso dietro! Dietro! Avanti! Avanti! Dietro! Avanti! Tu see! Dov'è il capo? Sto lì! Ma dove? Ma dove? Davanti o dietro? Ma non lo so io dove sono che mi fai saperlo te! Che va davanti davanti! Io! È la juguara! Ma chi che sparra? Io no! E' morto! Vai! Cazzo! Capo! Era morto! Ok! Cioè, finchè si muove non è morto, dicono così all'addestramento E poi avevo anche le pistole Ah ti sto picchiando le titte che è una brutta roba Guarda il capo Capo vs Jack Arco Dio Allora analizziamo la situazione Possiamo analizzare la situazione Passivo Vodka era quello armato Ci nascondeva, il capo disarmato andava avanti Vi rendete conto il capo disarmato avanzava Ma il capo se ne sbatte il cazzo Te ne devi sottere delle armi dell'avversario La melba scappa No ma non hai capito la situazione Io cercavo di farlo andare su una mina ma non c'è andato Ah ok Tirati 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 Ah si l'ho visto Il problema non è quello È il numero la melba Oh cazzo Oh mi sta adossando Guardate Il problema non è quello che è stato Il problema non è quello Ma mi sta adossando ah cazzo lo vedevo passare verso i buri no troppo che non paga finito ma che è quello là sopra? io saltiamo tutti sopra si avevo un colpo quindi non potevo ucciderti e così subito senza chiedere perdono si si morite cagni ecco io sono disarmato non ho niente bravo hai fatto bene a dirmelo dai pochia puttana si si vai con la casa che è piena no 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 ti prego aiuto il con abbo solo aiuto il con abbo col cazzo dai pure non pazzo il cesto guarda guarda sei morto lei sei morto bamm di violenza è armato sto qua è armato sto qua no la torretta no no quindi non so come abbia fatto a salvare oh no si è aperto una pagina internet a caso vieni vieni pagina internet no la faccia scherzi penso di avere un virus vieni vieni virus no 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 Elimination pro il cazzo che gli pare il cazzo quelle occhi se vogliamo fare un Elimination pro siamo giusti giusti se vogliamo fare un Elimination pro siamo giusti giusti Elimination pro come faccio a scegliere la mappa? ah dio cane è che l'ho scoperto è bella questa si si quella lì quella lì quella lì eh ma abbassi round ma piace 5 si perchè sennò si fa lunga non ci sono abbastanza giocatori come no eh devono mettere pronto vedete che prendo prendo l'arma ignorante eh prendi 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 e li prendi eh dai metti pronto pronto oh dio mi puo ma perchè non mi da mi dice che non ci sono abbastanza giocatori perchè dobbiamo mettere pronto vai adesso vai adesso è vero è calmo cazzo 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 vedi la roba è vera un po' squilibrati hai visto il capodanno albanese che è bello si si capodanno albanese eeeh capodanno albanese questo è capodanno albanese questo è capodanno albanese eeeh che ignorante che ignorante dio cazzo perchè non c'è la figa ora abbiamo di sparare uh 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 ho paura quante falte sto fisher tutto a chiudere sono io biru eh ma il capo non l'ha ancora capito eh non ha ancora immagazzinato l'informazione quale? eeeh oh io ho fatto una figu poi 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 ci ho chiesto i nostri esattamente è finito biru io prima avevo visto dove era però non lo vedo più starà camperando ah vinciamo noi io io ti dirò biru il capo non campera no no il capo non campera no non sto camperando non c'è nessuno no no il capo però se 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 torni lì capo ti becchi ti buschi una pallotta io te lo dico siamo sicuri eh si ti sta mirando eeeh adesso eh si tutte laccate il capo procede incessantemente per la sua strada vai capo vieni di qua stai fallo fallo muovere eh vabbè tipo così non si muove più che è un po' che è un po' che è un po' ok dai provo un'altra strada se non mi trovo sempre pulso da di fronte ah prepara un fucile a casa mostre E che palle, oh! Eccolo! Mamadonna, oh! Ma dai, gliel'ha giocato sinuziale! C'ho un fiuto! Ma porca puttana, ho detto adesso faccio un'altra strada, bah, infatti! Ma perché non muore la gente? Mi resta 20 HP! Ma cazzo! Mori, mori! Ne hai 20 di troppo! Dove stai? E che Cristo! Biru sei da scuola! BIO cane! Vai, vai! E poi, non puoi morirmi così! Uno contro uno! Eh, ma Fischer! C'è, Fischer! L'hai visto dov'è? L'hai visto dov'è? Sì che l'ho visto! No, ce l'ho con Biru! Sì 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 sì! Sì che l'ho visto! È proprio una cosa! Tanto occupato! Che imbecille! No, siamo in... No, siamo in perdenza! Siamo in perdenza! Decisamente in perdenza! Siamo in perdenza! Io per esperienza non seguo Simone perché tanto va a morire! No, si dice che siamo in perdimento! In perdimento siamo! Adesso faccio una cosa! Rimango semi a FK alla nostra base per un minuto o due! Così! 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 Disso! Non mi verrà in faccia! Arrivo! 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 No, 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 no! Io sono in FK quasi in base mia! Quindi no! Ma porca puttana! Ma porca puttana! Sei sempre di cazzo! Ma no! Io mi muovo! Ma... E mi fiii delle cose false! Io sono ritardato! Passo sempre da lì! Porca puttana! Sei una persona falsa! C'è una persona falsa! PAUSA! Dove cazzo sono adesso? Dai! Mi do una mano! Ivan è sul tetto! Ma porca puttana! Lei! Come ne massite! Come ne massite! Ivan è tipo nascosto in un pilastro! Del tetto! Vigliacca! Ti sta mirando! Ti sta mirando! Allora! Sopra di te! Eh! Perché io non riuscivo a sparare verso il vetto così? Ma allora! 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 Ragioniamo! Ragioniamo! Basta andare sempre da là! Basta! Buena bella! Cerca di fare il bravo! Non hai fatto più la chi! Disso! Disso! Vieni qua! Disso! Disso! Vieni qua! Voglio farti vedere una cosa! La targa! Oh! Giro! Di capo! Porca puttana! Ivan! Porca puttana! Se ti odio in modo disumano! Io cane Ivan! Solo vuoi che tu ci hai salto! Ma Simone sono qua! Sono qua! Sono qua! Sono con te! Eh! Porca puttana! Basta! Hai i nervi al fior di pelle eh! Madonna! Non pago il biglietto! Non pago il biglietto! Ragazzi! Ma chi è? Giocate ancora? Si si! Posso entrare? Si si! Arcorobo! Arcorobo ce l'hai sopra estento? E tu sono sopra! Uff! Uff! Ma forta... Spiderman! No ma non mi ha ucciso me! Ho ucciso altro! Capo stavi in vento perché pensavi di essere morto Sì Oh ma che stai a dire